Il codice fiscale di Putin, non Liban, 091, BIMAG, bla bla bla, scrive, ma forse l'aveva già detto un'altra volta, il protagonista Nippo di Karate Pugni e Fagioli, cioè Yoshoka, sintetizzo, si rese protagonista di un ricovero di massa al pronto soccorso, l'allora DT degli azzurri di Karate, Yutaku Toyama, gli fece disputare un comité, cioè il comité sarebbe il combattimento sparring, chiamiamolo così, e con i componenti della nazionale Yoshoka, che non conosceva l'italiano, ci andò pesante e tutti finirono a pronto soccorso. È vero, ma non solo in quel caso, a me invece raccontò mio cugino che era suo allievo, che anche all'uscita dei locali, sovente sbronzo, Yoshoka usava a mucchia gente per risse banali poi alla fine, quindi sicuramente Yoshoka era forte, infatti io dissi a questo mio parente chissà una cosa tra lui e Bruce Lee, chissà come sarebbe stato un combattimento fra lui e Bruce Lee, ma lui che era stato allievo di Yoshoka mi disse, ma no, contro Bruce Lee nessuno ci si sarebbe messo. E poi dice anche George Wong, se mi sbaglio correggimi, era l'attore che interpretava l'ambasciatore giapponese in Mi vedrei tornare con Gianni Morandi, sì, credo fosse proprio lui, ma non c'ho in mente il film, però è molto facile che fosse lui, perché in quegli anni Giorgio Wong stava in Italia e tra l'altro pure il figlio Dong Wong Tao, che poi è diventato una piccola star del filone per suo conto a Taiwan, è cresciuto un po' anche qui a Roma, ha praticato arti marziani anche qua e poi dopo ovviamente è ritornato in patria. Poi Raffaella Tozzi, scusate la tosse ma purtroppo fumo e neanche tanto poi, però evidentemente anche quel poco che fumo 10-12 al giorno se fa sentì, Raffaella Tozzi diceva, me la so persa, vabbè in parole povere diceva che a lei non piacciono i film con quelli che copiano Bruce Lee e siamo d'accordo, ricambio la sua simpatia, stima Deca Junior si scusa per aver usato il termine mito su Bruce Lee, ma tu lo puoi chiamare come ti pare, io poi dico la mia opinione, Bruce Lee non è un mito, è una leggenda, sono due cose diverse. Roberto di Furia, o anzi tipo una time è un gran bel film, certo per apprezzarlo in pieno bisogna conoscere il cinema di quegli anni e per commuoversi al cielo una volta finale, bisogna ben conoscere la realtà dei fatti, la trovata della favola estruggente solo se conosci la realtà atroce che invece è toccata alla bellissima principessa. al cinema ricordo che molti non colsero praticamente nulla, ed è vero, ma anche quando l'ho visto io al cinema all'anteprima, ma voi pensate che la gente in sala che erano tutti VIP tra virgolette, insomma tutte inviti erano, quindi non c'era pubblico normale, ma voi pensate che sapessero tutti che in realtà la strage c'è stata, che Sharon Tett è morta con altre quattro persone, era pure incinta, sventrata, o che chi l'ha vista al cinema lo sappia? No, pochissimi, questo è più che altro un fatto di cronaca americano, lì sì, lì probabilmente molti se lo sono ricordati, ma qua molti non hanno proprio capito nulla, perché non conoscono i fatti alla base, quindi è ovvio che in quel senso poi alla fine le opinioni lasciano il tempo che trovano. Cica il ritrattino del nostro eroe, aggiunge Roberto, non ci vedo nessuna lesa maestà, salto qualche punto perché tanto con l'ironia è un po' esagerato, inconsapevolmente gli è sfuggita la mano, è l'unico caso in cui sono abbastanza d'accordo con Shannon, eccetera, io non sono affatto d'accordo perché tanto quella parla per soldi, non per conoscenza o per reale convinzione, secondo me è in giù box Shannon lì, e basta che la pagate potete fare pure un film dove Bruce Lee è il consigliere di Putin e vedrete, sto scherzando, ovviamente esagero sui perboli, ma comunque tutte le opinioni sono legittime. Poi Enrico al quale ricambio il Buon Weekend perché è l'unico che mi fa sempre auguri e commenti personali che è molto carino da parte sua, Buon Weekend come al solito nel film Bruce Lee supercampione del 76, molto romanzato ma è giusto così, verso il finale si parla di un possibile allontanamento di Bruce per sfuggire al suo destino, sarebbe dovuto durare almeno dieci anni, eccetera, eccetera, ovviamente è una balla, mi chiedo però se sia stata un'invenzione del regista oppure se esisteva veramente una cerchia di seguaci che credeva in questa cosa, a che punto sei col libro su Franco, il libro su Franco per me è finito, sto a fare dei ritocchi, per quanto riguarda la faccenda che Bruce Lee secondo la leggenda si era allontanato volontariamente fingendo la sua morte, non era una balla inventata del regista, era una credenza che circolava sul serio, tant'è che nel 1983, non ricordo se sulle pagine di Banzai o di Samurai, una delle due riviste storiche delle arti marziane in Italia, c'era proprio un pezzo che la riprendeva e che si concludeva dicendo se è così drago torna a volare, cioè se veramente te sei nascosto è il momento che torni a volare, ma come sappiamo Bruce Lee non è tornato e anche nell'ipotesi fantascientifica che fosse stata vera quella cosa certamente sarebbe ritornato con la morte del figlio, ti ammazzare un figlio tu non resti nascosto. Ma queste cose si sono dette una volta o l'altra di tutte le grandi star morte e giovani, pensiamo a Marilyn, pensiamo a James Dean, pensiamo a chiunque, infatti c'era qualche anno fa quella pubblicità, non so quanti se la ricordano, di quella nave che transita nei pressi di un'isola e su st'isola ci stanno Elvis invecchiato, Bruce Lee invecchiato, Marilyn invecchiata, mi sembra pure Jimi Hendrix invecchiato, insomma ci stanno tutte le grandi star morte e giovani che quando passa l'isola si nascondono dietro gli alberi di cocco, era molto divertente, credo che ci sia ancora in rete, ma non mi ricordo, mi sembra che pubblicizzava un liquore, una bibita, ma era molto divertente e prendeva spunto proprio dalle fantasie popolari che sempre sorgono quando un personaggio muore giovane e siccome ci strazia separarci in maniera così traumatica ci inventiamo queste cose a volte col cuore, cioè a volte sono sintomo d'amore a volte per speculare.